Accoglienza dei migranti e prospettive per il futuro del progetto europeo. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica di Lettonia. La Sala Stampa Vaticana, in un comunicato, rende inoltre noto che nel corso dei cordiali colloqui è stato espresso apprezzamento per i buoni rapporti bilaterali e per il positivo contributo della Chiesa Cattolica nella società lettone.